I just want you Video e foto, si distinguono anche dei contenuti che generano un enorme scalpore, proprio come quello che da un po' di ore, sta facendo molto discutere Ieri, infatti, Barabra D'Urso ha pubblicato una foto, che ha fatto scatenare il web contro di lei Un utente ha infatti scritto due punti.BruttaVecchia Aruginita, Zerbino.Barbara D'Urso, e la provocazione sul web La conduttrice Barbara D'Urso è tra i personaggi più amati e più criticati della televisione italiana La donna è, ormai, una presenza costante nelle case degli italiani. Lei di Cologno, però, non si accontenta di questo, e vuole essere super presente anche sui social Molto spesso, però, condivide dei contenuti che dividono notevolmente il web e generano grosse polemiche Una delle ultime foto pubblicate su Instagram, infatti, ha fatto scatenare il web contro la protagonista dell'immagine Barbara D'Urso L'immagine in questione, immortala la donna sdraiata su di un pavimento, con le braccia portate verso l'alto Addosso un fresco abito a base bianca con fiori gialli e blu.L'a foto in questione mette, naturalmente, in risalto le sue forme ancora decisamente mozzafiato e il suo sguardo estremamente seducente Ad ogni modo, però, c'è chi proprio non ha gradito tale scatto. Alcuni utenti, infatti, hanno iniziato a sbottare contro di lei rivolgendole delle offese davvero poco galanti e sicuramente sgradevoli Le accuse shock.Tra i vari insulti, quello che sta generando maggiore scalpore è quello di un certo leone Il protagonista di tale insulto ha commentato dicendo alla conduttrice di essere uno zerbino, una brutta vecchia arrugginita strapiena di rughe che continua a nascondersi dietro o photoshop Insomma, un commento davvero cattivo che ha, in pochissimo tempo, fatto il giro del web Barbara D'Urso, purtroppo, riesce spesso a schierare il web contro di lei a causa dei suoi modi di fare, e delle sue provocazioni La conduttrice, però, come ha più volte ribadito, non si cura minimamente degli insulti, anzi, la divertono anche parecchio Per questo motivo, anche in questa circostanza, la diretta interessata non si è certamente abbassata a commentare Molti dei suoi fan, però, si sono sentiti in dovere di difenderla reputando assolutamente fuori luogo il comportamento di alcuni utenti Insomma, Barbara D'Urso riesce sempre a dividere il mondo del web tra chi la apprezza, e chi, invece, la detesta Grazie